Premiare il merito, il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Aurelio Tommasetti, ha illustrato questa mattina il piano tasse dell'Ateneo di Fisciano. Soldi rimborsati agli studenti in linea con il piano di studio e che si laureano dunque nei tempi prestabiliti. Non solo, il rettore ha anche sottolineato che in generale le tasse sono diminuite, una politica che, numeri alla mano, sembra premiare l'Ateneo salernitano. Quello che Unisa premia il merito, per cui da noi chi è in regola con le tasse, con gli esami, e quindi sostiene tutti gli esami previsti dal piano di studio, ogni anno gli verranno rimborsate integralmente le tasse. Una politica portata avanti di intesa con tutto l'Ateneo, quindi tutti gli organi di governo, a partire dal Consiglio degli Studenti, a partire dal Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, che vuole dare un messaggio molto preciso. Attenzione, un momento di difficoltà, Unisa, che è cresciuta nei numeri, nelle immatricolazioni, a dispetto di un trend nazionale, vuole premiare gli studenti e le famiglie, partendo da quelli che sono studenti meritevoli, con il loro impegno, dandogli un contributo concreto. Abbiamo avuto già un incremento del numero dei laureati in corso. Questa è una rivoluzione, perché è chiaro che interessa gli studenti e le famiglie, ma interessa anche i docenti. Poi c'è una generalizzata riduzione delle tasse. L'anno scorso abbiamo avuto un aumento del gettito, derivante dall'aumento del numero dei matricolati, e anche dalle politiche nazionali che hanno rivisto l'Isee. Ed intesa col Consiglio degli studenti, siamo intervenuti per cercare di ridistribuire questa maggiore raccolta di risorse, puntando sulle fasce deboli.